L'olio è un alimento eccellente ed anche una sorta di farmaco naturale per mantenerci in buona salute. Parliamo naturalmente dell'olio buono, non olio contrappato o manipolato per aumentare il volume ed offrirlo a prezzo molto basso. Si è parlato dell'olio extravergine d'oliva durante una lezione guidata con assaggi dell'olio prodotto in Valle Peligna che è un olio di elevata qualità. L'interessante incontro si è tenuto nel ristorante Villa Giovina in località Bagnatura di Prato alla Peligna. Il relatore, grande esperto nel settore medico nutrizionista, ha spiegato ai presenti produttori e consumatori le qualità dell'olio ed i vantaggi che porta alla nostra salute. L'evento si inquadra nel concorso Prantolio, giunto alla undicesima edizione, che si propone di valorizzare il buon olio peligno, un autentico prodotto di nicchia, di elevata qualità. Avere un buon olio extravergine d'oliva vuol dire avere un rientro per la nostra salute in termini nettamente positivi, perché l'olio è un nutraceutico, cioè, e questa è una nuova scienza che è uscita, la nutraceutica è un qualcosa che dice che alcuni alimenti sono dei super alimenti, oltre ad essere di nutrimento, sono anche farmaceutici, cioè ci curano, non avendo né effetti collaterali né controindicazioni classiche dei farmaci. Quindi, in primis, questo concetto ne dobbiamo avere. Quando prendiamo un buon olio extravergine stiamo prendendo salute. Intanto diciamo che domenica 26 febbraio, nel Teatro Comunale di Prato alla Peligna, si terrà la manifestazione clou del concorso, con la proclamazione dei vincitori, un convegno e poi, sul buon olio a Peligno, degustazione di prodotti tipici.